Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Roma, 3 km di coda tra Firenze in Pluneta e in Cisaregello per un veicolo in avaria, un km di coda tra Barberino e Calenzano per incidente. In A11 stanotte per lavori chiusa l'uscita di Firenze Nord per chi proviene da Roma e chiuso l'allacciamento con la A1 verso Bologna e in direzione Roma. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pluneta. Sulla Fibili per intervento di ripristino frana chiusura dell'uscita verso via Quaglierini in direzione Mare. La statale 64 Porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a causa di una frana. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!